ciao amici questo è figlio gabri quando mangia lo yogurt fai vedere la tua faccia quando mangi lo yogurt guardate un po la bocca la bocca vogliamo vedere la bocca la bocca i baffetti wow ma che yogurt stai mangiando bicocca bicocca o albicocca albicocca con facciamo vedere cosa hai messo dentro lo yogurt visto che sei un po pasticcione cosa hai messo non farlo vedere dalla bocca vogliamo vedere dalla scatola o lo yogurt con gli smarties wow la be che ti ha portato la be fana certo ma sei andato a scuola oggi si come è andata bene bene cosa hai fatto hai giocato a cosa avete visitato la scuola primaria ma perché la visitate la scuola primaria comunque qui c'è il tovagliolo a titolo informativo e perché avete visitato la scuola primaria come bo ci sarà motivo qual è il motivo come mai non lo sai secondo me è perché l'anno prossimo andrà alla scuola primaria quindi te l'hanno fatto anche piccoli cero anche piccoli allora avete fatto anche mezzani allora avete fatto una gita fuori porta che è bello e com'è la scuola primaria bella bella siete andati nella prima camera nella prima camera o aula ah nella prima aula che bello ma lo sai che tra un po andremo dove all'allenamento all'allenamento oggi giovedì quindi ricominci l'allenamento di calcio perché sabato hai cosa la la partita la partita e sei emozionato e tu spingi tutti tutti a terra ma mica si fa così non si tutti tutti a terra poi fai fallo no non dice mai fallo il mister ma forse non dice fallo perché ancora all'inizio capito quindi ve lo lascia fare però quando sarete più grandi dirà quando farete fallo perché non è valido hai capito e quindi visto che andiamo a calcio e oggi riprendiamo gli allenamenti ti tocca fare una cosa cosa ti tocca fare parare bravissimo risposta è fatta preparare il borsone facci vedere come sei felice di preparare il borsone sei felicissimo guarda veramente allora presto finisci questo yogurt così prepariamo subito il borsone e ci fai vedere come lo prepari perché questa è la prima volta che figlio capri prepara il suo borsone perché lo prepara sempre chi mamma vita ma oggi mamma vita in ferie quindi lo fa chi bravissimo se all'allenamento vuoi andare il borsone devi preparare sei pronto facciamo una gara vediamo quanto tempo ci metti a preparare il borsone mamma ci mette tempo tre minuti tu quanto tempo ci metti quanto tre minuti allora facciamo partire il timer appena sei pronto vediamo quanto tempo ci metti e chi vince tra noi due che dici ma questo yogurt è infinito ma quanto ce n'è ancora più mangi più cresce amici se volete vedere questo video iscrivetevi al canale e lasciate tanti like soprattutto se volete vedere come figlio gabri prepara il quindi siamo pronti per vedere come figlio gabri appena avrà finito di mangiare il suo yogurt buonissimo ci farà vedere come si prepara il borsone per la sua felicità oh questo yogurt è terminato allora siamo pronti tu prendi il borsone lo metti qui al centro e mamma ti dà le cose da mettere nel borsone ok allora eccoci qua siamo pronti allora quello cos'è il tappetino per mettere su cosa bravo i piedi quando fai la doccia giusto per non metterli per terra quindi la prima cosa che fai dopo aver anzi sì la prima cosa che fai dopo aver fatto l'allenamento qual è la doccia quindi cosa ti serve per fare la doccia come abbigliamento intendo cosa ti serve quando fai la doccia no da mettere su asciugamano ma è l'acca l'accappatoio quindi mamma ti passa l'accappatoio ecco qua che tu devi piegare per bene e mettere nel borsone vediamo quanto tempo ci mette figlio gabri a preparare un borsone ecco ora lo piega ci mette tre ore tre anni vediamo un po meno male che il pavimento è pulito ci siamo bravo accappatoio quindi metti l'accappatoio bravissimo poi cosa ti serve per asciugarti meglio oltre all'accappatoio la l'hai detto prima asciugamano piccolino e qua ecco asciugamano era già piegato comunque eh certo lo pieghi per bene tu va bene bravissimo il nostro figlio gabri prepara il borsone amici bravo bravissimo andiamo avanti dopo aver fatto la doccia ed esserti asciugato cosa fai ti metti cosa i vestiti i vestiti ma quindi partiamo dalla canottiera bravissimo canottiera che potevi anche evitare di piegare perché l'ho data già piegata un po ma va bene lo stesso questa è la canottiera nuova più grande che mamma vita ha comprato perché avevi quelle piccoline pieghiamo la canottiera e voi amici avete mai preparato il borsone da soli provateci perché è be facci vedere un po la faccia come quanto ti piace è bellissimo amici preparare il borsone vero dopo aver pulito il pavimento con la cannottiera possiamo metterlo nel borsone sei pronto eccoci qua nel borsone bravissimo poi dopo la dopo la cannottiera cosa metti prima dei pantaloni la mutandina bravissimo è di sonic vediamo questa mutandina di sonic wow la mutandina di sonic aprila per bene così la vediamo wow no no così non si vede un po più lontano ecco che bella va bene dai mettila mettila nel borsone la mutandina di sonic ecco dopo la mutandina cosa metti le calze le calze ecco le calze dopo cosa metti la maglietta maglietta ecco la maglietta pronta la maglietta ma questa è una maglietta spaziale è vero bellissima questa maglietta bravo bravissimo dopo la maglietta siccome fa freddo e non possiamo uscire senza panta mettiamo il pantalone bravissimo questo pantalone militare suppose pronto per andare in esercito bravissimo come militari ecco anche la felpa certo una tuta quindi mettiamo però sei bravissimo a piegare pulisci anche il pavimento però sei molto bravo fai uno e l'altro bravissimo e poi alla fine ma non ci sta più niente in quel bozzone metti per bene bravo ecco ora si ecco ecco basta ora cosa manca il giacchettino della felpa della tuta scusate piegalo per bene no piegato non buttato lì dentro piegato bravissimo pieghiamo addirittura le mani le maniche nel cappuccio e dove hai visto questo procedimento dove l'hai visto guarda guarda sei più bravo di me a piegare i vestiti wow sta diventando più piccolino la persona wow ecco qua bravissimo ora controlla che c'è tutto ora possiamo controllare che ci sia tutto guarda un po se nel taschino c'è il bagno schiuma quale il taschino lì sì guarda un po cosa c'è c'è ah ecco cosa sono quelli i palastinchi bravo quelli li puoi mettere li puoi tenere fuori perché ora li mettiamo su perché ti devi preparare quindi metti il bagno schiuma dove era prima dei guantini ci sono prendi anche i guantini bravissimo metti il bagno schiuma dentro chiudi la cerniera perfetto ora controlla se ci sono le pantofoline per la doccia sotto al taschino dove preso il tappetino gira bravissimo fammi vedere un po controlla che ci siano le pantofoline e direi che abbiamo finito prova un po bravissimo metti il tappetino il tappetino è il tappetino dov'è il tappetino dov'è le scarpe bravissimo e il tappetino perfetto bravissimo ma ci hai messo cinque minuti è stato velocissimo ora prova a chiudere il borsone chiudi la cerniera eccoci eccoci com'è stata questa esperienza com'è stata com'è stata bellissima bellissima oh 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 ma figlio gabri si è anche addormentato oh si è addormentato amici che facciamo ora non svegliamo figlio gabri figlio gabri figlio gabri dobbiamo sei pronto per l'allenamento è mattino è mattino no non è mattino è pomeriggio e tra un po' andiamo a fare l'allenamento quindi è mattino saluta i tuoi amici saluta i tuoi amici iscrivetevi al canale iscrivetevi eccoci amici noi ci prepariamo per andare all'allenamento ciao 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 ciao